ben tornati nuovo appuntamento di ss ghezzo tv da dove vieni da la piscina dalla spiaggia dalla campagna la campagna mi sono messo la maglietta per venire anche questo è anche i pantaloni come ero mutante anche dei sandali dei piedi e poi non iniziamo a fare non sei un annunciatrice allora siamo a san polo siamo venuti a trovare il signor palmiro ben tornato benvenuto ben tornato magari tornerà in futuro grazie troppo buona allora siamo qua perché qui ci sono dei problemi se ce li faccio le spiegherà da palmiro allora intanto visto che sono tanti anni che lotta per questi problemi non risolve niente allora qui siamo tanti anni che lotta quando c'ero io non me l'aveva detto queste cose iniziamo si vuole togliere delle responsabilità e beppe ti vuoi togliere un pochino sì veramente voglio dire la verità una volta sei venuto lì in questo varco qui famoso che mi dicesti che il comune non aveva soldi vabbè ora poi ne parliamo siccome quindi dalla giunta Luccherini Ricci poi Luccherini poi Fanfani e poi Ghinelli qui non si vede niente vedi c'è una continuità io quello che dico io che non si può sempre lavorare su Guido Monaco via Crispi via Roma eccetera eccetera perché anche noi siamo cittadini come quelli quindi quel boulevard che succede qui qui succede che quando piove e qui lo si può notare benissimo quando piove praticamente le fossette che non sono state rifatte almeno da 40 anni da quando andava a scuola io forse più come si può vedere lì ci sono nate le non gran profitto andava a scuola da quando c'erano gli stradini vecchi stradini ti ricordi non c'era gran profitto quando andava a scuola eh certo non c'era va bene non c'era niente comunque comunque sia dicevo qui e il problema è che queste queste fossette non vengono mai ripulite quando viene tre gocce d'acqua come si vede ci viene tutto il fango addosso scende giù tutto scende giù tutto e qui è un fiume e qui è un fiume in piena quello che si fa a volte io lo stradino non lo faccio però insomma qualche volta vedi che va fuori l'acqua io vengo con la paletta e pulisco ma nessuno mi paga anzi so io a pagare perché visto che i mutari e tutte le messe cantate si pagano tutti quindi sì a parte il pensionato ma comunque sia anziché stare a pulire fossi che non spetta a me li dovrebbero pulire chi spetta perché non si paga quindi e io e come pensionato potrei andare anche a mostrare le chiappe chiare al mare giusto con la gnocca come si dice no a tutto soprattutto quindi questo è un primo problema segnalato al comune da tanto tempo poi c'è il famoso cartello lì come si vede che si può inquadrare il famoso cartello pedoni che sicuramente sta a significare pedoni come pedoni d'olivo perché non vedo il significato di quel cartello ma dopo dieci anni perché se uno va giù fuori strada sa che c'è pedoni d'olivo quello sicuramente dopo anni di protesta un anno che sono tornato dalle ferie mi trovo questo cartello qui ho detto pedoni ma io pedoni ci sono perché c'è tre vecchi qui oltre di no oltre i novantenni poi c'è anche qualche bambino c'è centro abitato bravo poi in ogni paese c'è scritto san polo antria cadici io frazione di arezzo qui ha messo cartelli san polo sotto non c'è niente comune di nessuno come le proteste che ho fatto al giro d'italia educatamente perché sono una persona molto educata io però ora si comincia a essere un pochino gonfi come se di protesto ma io ho fatto tre striscioni ho chiesto a uno studio legale se li potevo fare perché sono stato nella mia proprietà quindi ho fatto tre striscioni rosa belli per il giro d'italia ho speso anche dei soldi dove c'era scritto benvenuti a san polo frazione nel paese di nessuno perché giustamente sotto come vedi non c'è scritto niente sotto san polo nei altri cartelli c'è scritto frazione o comune d e poi oltre a quello c'è scritto grazie al giro se sono state riparate le buche perché io tutti l'anni non posso andare dallo sgrevi e pigliare quattro ballini di di bitume e fare l'asfalto davanti a casa insomma credo che sia giusto perché non san polo è apolide senza comune nei cartelli perché è una via di san polo è una frazione logicamente sono dimenticati non lo so perché non c'è scritto frazione d'arezzo perché dovrebbe essere scritto frazione d'arezzo oppure comune d'arezzo invece commenta ci sono altri tanti errori come come hanno messo giù in via fonte branda via caduti di san polo ma chi non sa cosa sono i caduti uno può pensare e vede via caduti di san polo può pensare anche che uno è caduto dentro il fosso visto che c'è anche se si può dire il pozzo nero buttino a cielo aperto quindi c'è comunque qui poi sfrecciano le auto qui sfrecciano il limite quanto sarebbe 50 dove è scritto c'è il cartello san polo ma non c'è scritto 50 non c'è scritto 50 no no non è necessario questo lo sapevo questo lo sapevo anche qui è un rettilinio questo è un rettilinio e anche anno scorso hanno sbattuto lì contro quei portoni della villa come come vedete perché purtroppo i coglioni ci sono da tutte le parti siamo stati tutti giovani e tutti scapestrati però un po di rispetto di buon senso ci dovrebbe essere perché tu gli dici a qualcuno di rallentare o far piano ti mandano a fare quel paese e dopo sai oggi domani domani all'altro poi una mattina d'alse male e può succedere anche quindi voi chiedete dissuasori cosa chiedete io chiedo dissuasori della velocità si chiede dei cartelli c'è una strettoia lì perché come si vede è una strada che lì non è larga più di due metri 50 se si misura neanche tre metri arriva quindi una carreggiata normale credo che sia quattro metri non lo so quindi si chiede si chiede manutenzione non si chiede spese straordinarie quello che io voglio dire come le fossette come i cartelli mi pare di capire che con il cambio di giunta da quella che c'era prima quella che c'era adesso non è cambiato niente ma io come ho detto cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa come ho detto prima e dalla giunta da quando c'era il vecchio aldo duciche tutte le giunte quante sono una ogni cinque anni o forse meno se sono cadute prima non lo so comunque una ogni cinque ricci luccherini fanfani e le campagne elettorali vengono qui ma io quello che a me una cosa che mi dà molto noia ma io parlo qui destra sinistra e tutto quanto tutto di tutti i colori questi gazebo che si mette prima delle elezioni anche nei paesini che vengono a raccattare il voto a cosa serve per il culo la gente scusate se si può dire per il culo perché insomma è così la gente un pochino si è stufata o si o si fa si fanno le cose oppure non si va a raccattare voti per poi non fa niente il messaggio è lanciato chiaro limpido il problema non è solo questo pezzo qui c'è anche altri problemi sotto che poi se volete andremo a vedere senza nessun problema va bene ok tanto a domani ciao